La politica sembra aver perso la sua autorevolezza, che si può fare? Come si può riguadagnare autorevolezza con i cittadini? È un tema che va affrontato vedendo tutte le ragioni di questo. La prima ragione è una ragione di cui non si parla mai, ma che c'è. Noi viviamo in un mondo, un mondo della globalizzazione e dell'integrazione europea, che ha allargato lo spazio dei processi economici, sociali, culturali, delle decisioni e la sovranità di uno Stato e quindi di tutti i soggetti che in uno Stato esercitano una funzione, le istituzioni come i partiti, è più debole perché sono meno sovrani sulle decisioni. Noi oggi viviamo in un tempo nel quale molte delle cose che incidono nella nostra vita vengono decise dalle borse sul piano internazionale. Noi viviamo in un'Europa che è ormai un soggetto integrato, in cui un terzo delle decisioni della nostra vita sono decise a Bruxelles e non a Madrid, a Parigi o a Roma o a Berlino. Viviamo in un mondo nel quale la globalizzazione investe ogni aspetto, la produzione, i consumi, la circolazione degli uomini, il trasferimento delle tecnologie, la comunicazione e noi siamo abituati a un tempo, che è stato il tempo che abbiamo alle spalle, il Novecento, nel quale invece tutto ciò che si manifestava in un paese aveva dimensioni nazionali e quindi siccome i fenomeni erano tutti lì, chi aveva la responsabilità di governare una nazione aveva in mano la forza di poter decidere, ma oggi no? Io dico sempre la democrazia oggi è spiazzata dallo spazio prima luogo, lo spazio dei processi è diventato più largo e cerchiamo di governarli continuando a pensare che la sovranità statale sia capace di governare, guardiamo tutto il dibattito che da mese è in corso in Europa, l'Europa perché ha questo affanno drammatico nell'affrontare la crisi economica internazionale? Perché pretende di continuare a governarla con politiche nazionali e non ha il coraggio di fare un salto e di darsi politiche europee forti, vere che sono l'unica scelta che si può fare perché l'Europa esca dalle sue difficoltà. E l'altra cosa che spiazza la politica e le istituzioni è il tempo, viviamo in una società del tempo reale, viviamo in un mondo nel quale tutto accade nell'istante, ma le modalità e le procedure di funzionamento delle istituzioni e delle decisioni non sono mai il tempo reale, l'istante, sono più lente, più lunghe e quindi c'è tutti i giorni una forbice tra il tempo della società che è rapido, immediato e il tempo della politica che è più lento e quando una cosa è più lento riduce la sua autorevolezza. Tanto questa è una ragione strutturale che non c'è mica solo in Italia, il Parlamento che nella democrazia rappresentativa del Novecento era per eccellenza il centro del sistema politico, il Parlamento è in crisi come istituto in tutti i paesi democratici, ci sarà una ragione no? Ci sarà una ragione e la ragione è questa qui, una società per esempio che vive in tempo reale alla politica chiede di decidere, ma se chiede di decidere e chiede di decidere subito è evidente che la centralità si sposta dal Parlamento sul governo, su chi ha la potestà di decidere più che di rappresentare. Allora la prima ragione vera della crisi della politica è questa, c'è in Italia, guardi se uno prende i giornali tedeschi o francesi o spagnoli e vede che c'è lo stesso dibattito sulla crisi del Parlamento, perché questo è un fenomeno che investe tutti i paesi democratici. Poi in Italia naturalmente ci si aggiungono altre cose, ci si aggiunge il fatto che negli ultimi 30 anni il sistema dei partiti è stato fortemente destrutturato, i partiti storici, forti, classici che avevano radici nella società, che avevano rapporti forti, che avevano una capacità di organizzazione e di relazione con i cittadini molto strutturata, non ci sono più, i partiti oggi sono molto più fragili, molto più deboli, molto più esposti anch'esse all'influenza del sistema mediatico e della mediatizzazione, questo naturalmente rende la politica meno capace di programmare sul medio periodo, di darsi una strategia, anche la politica è obbligata ad agire giorno per giorno e quando le cose vengono gestite giorno per giorno rischiano di essere più deboli, perché senza una capacità di visione anche il giorno per giorno è più debole. E poi naturalmente ci sono problemi ancora più specifici, per esempio io penso che in questi anni c'è stato, e questa è una responsabilità di alcune forze politiche, non mi interessa adesso dire i nomi, perché non voglio fare delle polemiche, ma certamente è così, alcune forze politiche hanno fortemente abbassato la qualità e il livello della classe dirigente e abbiamo credo avuto mille esempi di questo. E ancora c'è un sistema istituzionale che pensato in un'altra fase oggi risulta essere barocco, per esempio noi siamo uno dei pochi paesi dove c'è un sistema parlamentare bicamerale perfetto per cui ogni legge per essere approvata deve essere approvata dalla Camera, poi deve andare al Senato e che deve approvarla, se per caso il Senato la cambia deve tornare alla Camera, ammettiamo che la Camera la cambia un'altra volta deve tornare al Senato, è un sistema antidiluviano, che andava bene nei tempi in cui il tempo della società e il tempo della politica erano lenti, oggi non ha senso, tutti i paesi democratici hanno una sola assemblea legislativa o se ne hanno due differenziano le responsabilità e le competenze, come in Germania dove c'è il Bundestag che è la Camera che ha le potestà legislative e c'è il Bundestag che è la Camera delle Regioni che decide sulle cose che riguardano il sistema dei poteri locali, ma non si sovrappongono nelle competenze, già fare solo questo in Italia vorrebbe dire ridurre della metà i tempi della produzione legislativa, bisogna fare delle riforme di questo tipo. In Italia noi vediamo una specie di localizzazione della politica, movimenti, spinte politiche che nascono dal basso, questo, la politica alta, la politica del Parlamento, come ci si confronta? Ci sono due fenomeni che si manifestano in Italia e che si manifestano anche in altri paesi europei, uno è questo fenomeno di cui lei adesso ha fatto riferimento, cioè la localizzazione, cioè di fronte al fatto che la globalizzazione entra nella nostra vita e a ciascuno di noi la globalizzazione appare troppo grande per essere governata, allora cresce l'illusione che se io mi faccio più piccolo, mi chiudo nel mio giardino, mi organizzo alzando dei muri, mi difenderò meglio, errore fatale, nel mondo della globalizzazione se ti fai più piccolo sei solo più piccolo e muori prima, bisogna avere il coraggio di fare i conti con la dimensione grande, dobbiamo fare i conti sul piano economico con la Cina, un miliardo 300 milioni di persone, con l'India un miliardo di persone, con il Brasile centinaia di milioni di persone, non c'è un solo paese europeo, neanche la Germania che da solo ce la possa fare, o ti dai le dimensioni analoghe e affronti, allora un'Europa di 550 milioni di abitanti con tutto ciò che questo rappresenta in termini di potenziale economico, finanziario e produttivo si mette insieme e allora reggi la competizione col miliardo e tre, o se no sei destinato a perire, quindi l'illusione del piccolo localismo è un'illusione che è un narcotico, ti fa credere di difenderti meglio, ti porta prima a soccombere. L'altro fenomeno che è strettamente legato a questo sono fenomeni populistici, noi abbiamo visto nelle elezioni degli ultimi 5 anni in tutti i paesi europei, tutti, compresa la civilissima Svezia, che i partiti tradizionali hanno perso voti a vantaggio di movimenti populistici che cavalcano la paura, la paura degli immigrati, la paura dell'Europa, la paura della globalizzazione, la paura delle tecnologie, le paure, che è un altro modo per soccombere prima, perché nessuna generazione è riuscita a farcela vivendo nella paura, hanno vinto le generazioni che non hanno avuto paura, vincono i paesi che non hanno paura. Ancora una volta rifugiarsi alla protezione di chi ti fa credere che il tuo vicino di casa è il tuo nemico, ma il tuo vicino di casa è un Cristo come te che ha i tuoi problemi, non è il tuo nemico. Allora bisogna avere il buon senso di vedere che le cose stanno così e di attrezzarsi per non essere preda di queste suggestioni. E qui c'è la responsabilità della politica che deve essere capace di rivolgere ai cittadini riflessioni, proposte, un messaggio convincente e credibile e nella credibilità ci stanno anche i comportamenti della politica naturalmente. Lei è un politico ma anche un amministratore. Secondo lei in questo suo ruolo può esistere una, si possono mischiare una parola del secolo scorso e uno di questo, capitalismo e sostenibilità possono andare assieme? È quello che succede tutti i giorni, noi viviamo in un mondo che è regolato dall'economia di mercato e al tempo stesso viviamo in un mondo che in questi ultimi vent'anni è diventato sempre più consapevole del fatto che lo sviluppo non può essere infinito senza fare i conti con i limiti che lo sviluppo ha dentro di sé, che quindi bisogna costruire uno sviluppo che sia sostenibile per i cittadini e per la natura. Siamo tutti più sensibili all'acqua che beviamo, all'aria che respiriamo, alla terra che calpestiamo, alla città in cui viviamo, abbiamo bisogno di costruire sempre di più un rapporto tra sviluppo e progresso. Sviluppo è una parola che connota la crescita in termini quantitativi, progresso è una parola che connota la crescita in termini qualitativi, abbiamo bisogno di uno sviluppo che non sia scisso dal progresso. Ultima domanda, in Italia le opere pubbliche più o meno tutte hanno la particolarità di costare di più e metterci più tempo di quanto è stato previsto? Secondo lei un'opera come il progetto Tav rischia di incappare in questo problema? Dato non è obbligatorio che sia così. Torino è una città che negli ultimi vent'anni ha conosciuto una gigantesca trasformazione. Sei milioni di metri quadri di aree industriali dismesse a Torino sono state trasformate, ce ne sono altre quattro in via di trasformazione. Milioni e milioni di euro di investimenti, non un'inchiesta, non uno scandalo, non una tangente e trasformazioni realizzate in pochi anni. Non è vero che dobbiamo essere condannati alla Salerno-Reggio Calabria per tutta la vita. Si possono fare le cose bene e in fretta, si possono fare anche più in fretta se si riduce quello che è un carico eccessivo di burocrazia e di ostacoli di carattere normativo.